Ciao ragazze, mi chiamo Elisabetta e oggi voglio mostrarvi come ho realizzato questa treccia utilizzando lui, The Braid Milk di Stylista. È un prodotto perfetto per andare ad idratare i capelli e a donare loro lucentezza, soprattutto quando realizziamo le trecce. Questa è un'acconciatura, secondo me, perfetta per un lunedì, per iniziare la nuova settimana con un grinta in energia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube di L'Oreal Paris e mettete un like a questo video e io vi lascio con il resto del tutorial. Ciao! Inizio applicando il prodotto sulle lunghezze, fino alle punte, sui capelli asciutti e pettinati. Faccio una coda alta, bella definita, e poi procedo a realizzare una regolare treccia. Mi piace l'effetto che questo prodotto ha sull'acconciatura, perché come vedete la treccia è morbidissima, estremamente luminosa e ben definita. Infine do un touch finale, sia sulla treccia, sia sulla attaccatura dei capelli, per rendere il tutto più fisso e più brillante. Questo quindi è il risultato, è un'acconciatura semplice, però allo stesso tempo d'effetto, che potete anche impreziosire aggiungendo degli orecchini gioiello, come ho fatto io. The Braid Milk è un latte fluido idratante che aiuta proprio a fissare e a rendere le nostre acconciature, in particolar modo le nostre trecce, più brillanti. All'interno inoltre è presente latte di cocco e il prodotto senza siliconi e paraveni. Spero che questo primo tutorial vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti se avete già provato The Braid Milk. Ed ecco quindi il risultato finale. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e mi raccomando lasciate un like se vi è piaciuto questo video. Ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!